buongiorno a tutti allora anzi buonasera sperando che youtube non rompa le balle perché c'è sottofondo battisti abbiamo una bella pasta penne cotto pezzettini di cotto e panna e poi siccome ha detto un poco che era troppo poco per me questo piattino così di penne mi ha aggiunto anche cinque zii del tortellino cioè il raviolo quindi abbiamo gli zii del tortellino cinque zii del tortellino cioè i ravioli e le penne nella serie era poca era poca roba ne abbiamo aggiunto un altro po vabbè vedremo di riuscire a mangiarla tutta la vedo difficile partirò dal raviolo visto che sono meno e poi andrò ad attaccare le penne non scrivete che poi il grasso perché sono dimagrito anche fatto due buchi in più alla cintura quindi non mi stressate detto questo ci vediamo alla prossima ciao